Il Pinedo non riesce a portare a casa i tre punti dal campo del fanalino di coda della serie C, la fermana. Il club di Mr. Ben infatti impatta per 1-1 passando in vantaggio con Germinario che è abile su un'azione confusionaria a trovare il tocco morbido davanti a Borghetto. Questo è il centro del vantaggio per i biancoazzurri che però nel giro di due minuti subiscono il pari dei locali con un tiro che si va ad infilare nell'angolino basso rispetto ai pali di vestita tonti scoccato da Petrungaro. Il botta a risposta prende vita a tutto nel primo tempo come detto tra il diciottesimo e il diciannovesimo. Ripresa molto aperta con occasioni da un lato e dall'altro, grandi le proteste della fermana a tempo quasi scaduto per un presunto intervento con il braccio in area di rigore del Pineto non ravvisato dal signor Nigro di Prato. C'è così il rosso a Paponi poco dopo per proteste attraverso il doppio giallo. Il Pineto aggancia con questo pari la zona playoff centrando la decima posizione della Lucchese a quota 39. La fermana ultima resta in ballo per tentare di agganciare playout con 21 punti. L'olbia menultima è infatti a 22. Ad oggi comunque entrambe le società sarebbero retrocesse per il distacco eccessivo dalla quintultima.